Non c'è stato il rinvio auspicato da buona parte di commercianti e associazioni di categoria. La partenza dei saldi invernale nelle Marche è confermata per il 5 gennaio 2024. Una richiesta, quella del posticipo dei saldi avanzata da anni nel territorio pesarese e che Confesercente aveva ulteriormente caricato di motivazioni alla luce dell'ottobre più caldo di sempre che aveva gonfiato il carico di invenduto dei capi invernali. La richiesta di posticipo dei saldi era stata oggetto anche di un'interrogazione in consiglio regionale avanzata dal consigliere Andrea Biancani che ha avuto risposta negativa per il 2024 con la promessa di ulteriori valutazioni per l'anno seguente. Questa richiesta partiva appunto aveva l'obiettivo di far sì che la regione Marche si attivasse a livello di conferenza delle regioni per modificare la data di inizio dei saldi a livello nazionale. Questo è importante perché ovviamente soprattutto per quei territori di confine che si troverebbero ad avere un inizio diverso. La conferenza delle regioni per quest'anno per i saldi invernali ha confermato la data del 5 gennaio quindi in qualche modo non ha accolto questa richiesta di rinvio anche se si è presa l'impegno di verificare per le prossime date di inizio dei saldi di comunque di capire se veramente c'è questa necessità di modificare le date.